Non hanno assolto agli obblighi sulla vaccinazione anti-covid per il personale sanitario e per questo 20 medici sono stati sospesi. È accaduto nel Foggiano, i professionisti sono stati smascherati dagli accertamenti svolti dalla ASL di Foggia. Gli esiti dei controlli invece sono stati recepiti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia nella seduta del 22 novembre. Per questa ragione anche l'Ordine ha comunicato agli interessati la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio dell'infezione da covid-19. Tale provvedimento manterrà la sua efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o in mancanza fino al completamento della campagna vaccinale, ovvero fino alla durata del periodo emergenziale dichiarato dalle autorità a causa della pandemia. La adozione dell'atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'azienda sanitaria locale spiega il presidente dell'Ordine dei Medici di Foggia Pierluigi De Paolis in una nota determina la sospensione dell'esercizio dalla professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa da parte degli operatori sanitari che svolgono mansioni implicanti necessariamente contatti interpersonali con il paziente.